Qu'è? Qu'è? Un tintore? Qu'è questo tintore? Non è tintore, è stintore. È la panna per il gelato, panna sotto, prendi questo, panna sotto, è tutta panna su, e ti immagini? Fa sentire, scusa, sono scapeggiata. È un po', sì, è un po', spettinata, si dice. Non ci avete un parrucchiere? Sono molto scapeggiata. Spettinata, senta, noi dobbiamo andare a Chiaravalle e a Monte Cosaro. In dove? A per cosa? Una scapegnata? No, a Monte Cosaro, a Monte Cosaro, dove è Monte Cosaro? Non lo so, dove è vicino a Pano, è poderino? No, a Monte Cosaro. No, è sopra Centinarola? No, è provincia di Macerata, il 20 di ottobre siamo. Il 20 di ottobre, ma io c'ho la fiera della patata, non posso venire. Deve venire a Monte Cosaro e poi a Chiaravalle, l'ultima replica nazionale, mondiale di A far l'amore cominci tu. Il 27 di ottobre. Il 27 a Chiaravalle, ma io sono tutta scapeggiata, c'è una parrucchiera a Chiaravalle? C'è la Luigina, la parrucchiera? Ci sarà, perché non posso venire tutte scapeggiate così tutti in disordine? Va bene, va bene. Dai, allora venite tutti a Chiaravalle, ma aspetta, anche se sono tutte scapeggiate. Ciao, ciao.